Cioè praticamente vlogghiamo, like e funghi Oggi siamo contentissimi Siamo con il gruppo di testa qui a Giana E' un po' grana grossa Sassi conferma che siamo alla testa della cozza Siamo con il nostro amico Pasquale Direi che ci sono e basta Come iniziare il vlog, volevo solo vedersi alla batteria della gopro Stradevia, anche il giro del fuoco, ci siamo Mamma mia, sento la gamba, sento la gamba Adesso però vi tocca entrare nel vlog, quindi nome e cognome Alessio Raga, che griglia siamo, eh? Che griglia siamo? 5000, allora partite un po' dopo Oh, divertite, in bocca al lupo Bici pronta, 7 e in quarto, 8 si parte Pensavo facesse più freddo, eh? Ma il numero male, eh? Male Ragazzi, è arrivato Homer E mi ha detto una cosa bella Mi ha detto che è una furbata alla gopro sulla testa Lui non sa quanto pesa poi usare la gopro sulla testa Che fai così Però Molte la mattina Sì, eh? Sì, sì Come dico sempre io Even if I don't look like But I'm smart Ma nel vlog entra pure Elisa che Vogliamo dirlo? Lo dico? Posso dirlo? Vai, cosa vuoi dire? Quest'anno? Quest'anno faremo la gara insieme Tutta la gara Non so quanta gente c'è ma un bordello La scarlatta vuole vincere la gara Perché ha messo la Red Bull dentro la barra Raga hanno chiamato praticamente tutti i campioni che sono davanti e non hanno chiamato me quindi male Però la cosa positiva è che hanno chiamato Paolo Bettini e abbiamo il video di Bettini che si cappotta Sì, lo mettono nel vlog Ragazzi, 5 minuti alla partenza facciamo un raduno precoce Allora, compagno, l'ho sentato Una cosa, facciamo la gara tutti insieme, ok? Tutti insieme Raga, abbiamo fatto un'ora ai 38 di media Il ciclo, raga Mito 50 all'ora Alle strade bianche Ma un po' così, eh? Si va via A manetta Non so quanti tassi abbiamo fatto però Abbiamo fatto cinquantello Ne manca tipo buon 90 Non lo so Siamo con il gruppo di testa qui la ghiaga Che è un po' a grana grossa Volano sassi La conferma che siamo alla testa della corsa Chilometro 60 Dai, eh Stiamo a 70, settore numero 6 Siamo con il nostro amico Pasquale E' via che si tira Dovevo decidere se Staccarmi e mangiare O stare attaccato e non mangiare Mi sono staccato Raga, 50 all'arrivo Siamo a 35 di media Il gruppo non è male sto gruppo, eh? Se riesco a tenere non mi portano all'arrivo In carrozza Allora, raga, volevo immortellare il chilometro 100 Quindi ne mancano 37 e 38 Al fine c'è la curva E... Son morto ma Dai, un trentello dovrei farli Nome e cognome Vini e Filippo Ascoltami Chi vince tra me e te Manca 20 chilometri Spero io Cinque all'arrivo, raga Sono devastato Siamo, raga Ultimo chilometro Non ho fatto niente della gara Ma ero troppo impegnato a menare Questa è la riva a Siena Piazza del Campo Bellissimo Bellissimo La che roba Il tico Vai All'è, all'è Marco Vai, tutta sui punti Va No, arriva Di strade bianche Una roba bellissima Non me la ricordavo così bella Ultima staccata destra Bam Raga Che spettacolo è Me la metti al collo? Grazie Finisher Raga, siamo arrivati Un po' stanco Però sono andato molto meglio del previsto Adesso chillo un po' E poi Giro del fuoco Latte Birra Biotermico Adesso stanco Non riesco a raccontarmi Comunque Peace La bici Una bomba Di poco Buongiorno ragazzi Oggi siamo Contentissimi Sì Ti raccomando Non togliere questo pezzo Di poco me l'ha battuta La scarlata Di poco Però l'ho presa tipo Agli ultimi 5 Continua a fare il cattivo Perché lui mi ha preso 5 km Ma ne ha fatto 150 Veramente brava Vi giuro Perché l'altra volta L'ho presa tutto il tempo Perché non era posto Già Ha fatto 30 km Di cui 10 a piedi Schifo Ma a sto giro La scarlata Già Ho fatto tutto Brava Brava E Martinello Muto Che la scarlata L'amenaco Ma Martinello Che ti voleva battere Dov'è? Sì Oserei dire Che è andata bene Molto bene Pensavo di metterci Dalle 4 ore e mezza Alle 5 Anzi all'inizio Pensavo di metterci Anche più di 5 ore Dopo che ho fatto Qualche piccolo Allenamentino in casa Ho detto È lunga Quasi 140 Con 2003-2004 Di livello Invece 4 ore e 06 È andata benissimo Pensate che fino al chilometro 60-70 Ero con il gruppo di testa Cosa buffa Sono in questo gruppo A un certo punto Mi giro Chiedo Ragamam Che gruppo siamo E questi Siamo nel gruppo di testa E ho detto Scusate raga Non lo sapevo Non me ne ero accorto Perché comunque ho limato tanto Per arrivare fino a lì Con i primi Amatori che logicamente Vanno forte Perché il primo comunque Mi ha dato Una quindicina di minuti Abbondanti Però Però me la sono cavata bene Cosa ho fatto Per arrivare lì Beh Ve l'ho già detto Non serve fare Una marea di chilometri Non serve fare Sei ore Tutti i giorni Ho pedalato Un po' Nelle settimane precedenti Facendo uno o due giri La settimana Anche tre alle volte Con un allenamento Magari un po' intenso Aerobico Gli altri Giusto per pedalare E attivare il nostro corpo Ad essere efficiente ed efficace Quando si pedala Nell'ultima settimana Un filino intensificato Ma veramente Ho fatto un'ora al giorno Due ore al giorno Al massimo A parte il sabato prima Nel quale ho fatto 120 Con 1.3 di dislivello Però facendo un po' Di lavoro aerobico Facendo dei giorni Di recupero Perché comunque Ho fatto dei giorni A pedalare proprio agile Agile Un'orettina E Il giorno centrale Della settimana Caricando un po' Perché ho fatto un giorno Selvino Un giorno sono andato A fare un bel giro Qui in Val Darda Dove ho un po' spinto Facendo un po' di sottosoglio Un po' di fondo aerobico Un po' di fondo medio E poi molto importante Quindi questo è un tips Che do a chi ci segue E vuole fare questo tipo di eventi Ho mangiato molto E molto bene Inteso come Il carico di energia Che ho dato al mio corpo Prima della gara Significa il venerdì E il sabato Molto molto importante Poi la colazione della mattina È importante E l'alimentazione in gara È importante Ma il carico che fate Prima della gara È molto molto importante Quindi mangiate Della pasta Mangiate le verdure Mangiate le proteine Non abbuffatevi Ma mangiate bene Bene ai pasti E ho bevuto tanto A parte il gin tonico Ho bevuto tanta acqua Perché l'acqua È fonte di vita E l'acqua vi aiuterà tantissimo Prima di pensare All'integrazione Andate ad alimentarvi bene Andate a mangiare bene E a bere dell'acqua Nei giorni precedenti La competizione L'idratazione L'idratazione è lì Che viene fuori Poi è chiaro L'integrazione vi aiuta È un'integrazione Ma prima la base Deve essere fatta Comunque Bellissimo Ho incontrato il Cipo Che è stato Insomma Sempre il Cipo Sempre il Cipo Ho incontrato Pippo Pozzato Con cui mi ero scannato Nel 2015 Appunto in questa gara Assieme ai professionisti Ho sentito Che c'era anche Paolo Bettini Si momenti Cos'è successo a Bettini E quindi Ho incontrato tanta gente Mi sono divertito Il team è andato bene Perché anche Omar Ha finito In meno di 5 ore Ha fatto una Una bella prestazione Con la sua Con la sua grave Omar che è Omar Martinello Che è un ragazzo Molto grave Fa bikepacking Avventura Seguitelo sui social Come avete visto E Elisa Scarlatta Che comunque Si è fatta la corta Ma l'ha pedalata Ha pedalato bene E ci siamo poi Incrociati appunto All'arrivo Quindi questa è stata La Gran Fondo Ma andiamo a vedere Il giorno dopo Il giro del fuoco Che cosa ci ha portati Perché questo È molto molto importante Ce li avete 3 minuti? 3 minuti Per favore Vi chiedo solo 3 minuti Del vostro tempo Se siete qui È perché questo video Comunque vi è piaciuto Se siete qui È perché Marco Eurelio Fontana Comunque vi piace Per il tipo di personaggio Che è Perché va in bici Perché non lo so Rimanete qui Altri 3 minuti Vevo spiegare una cosa Molto molto importante Per favore Ok siamo in Toscana Ok siamo in Toscana In provincia di Pisa Quindi siamo spostati Da Siena a Pisa L'Arderello Valley Un'area geotermica Molto molto importante Dove ci sono Importante Dove ci sono Diverse centrali geotermiche Che Enel Green Power Appunto Ha costruito In una storia molto lunga Noi poi siamo andati a visitare Anche il museo Della geotermia La storia è lunghissima Parte da Prima L'estrazione del boro Per poi Arrivare Al vapore E come questo vapore Poi è stato utilizzato Per l'energia elettrica Però Di base Cosa succede Nella terra C'è molto molto caldo Ci sono dei vapori E dei liquidi Che fuoriescono In effetti Abbiamo visto i fenomeni Delle fumarole Di questi geyser Che sono praticamente Queste zone Dove Il vapore Si incanala Nella terra Arriva E spara fuori Dal terreno Come si vede in Islanda Come si vede In Nuova Zelanda Eccetera eccetera Questi Fanno sì Che l'uomo Con la testa Dice Ok qui C'è molto caldo E raga Cosa facciamo Con dei pozzi Di estrazione Viene preso Questo Questo vapore Questi liquidi Vengono messi In una Ve lo spiego Come l'ho capito io Vengono messi In una Turbina Che quindi Produce Tramite poi Un alternatore Una L'energia Elettrica Ok Quindi questo Più o meno È quello che Sappiamo tutti Calore Vapore Liquidi Turbina Alternatore Energia elettrica Che poi va Ad essere utilizzato In tutto il territorio Limitrofo Ma dov'è che veramente la geotermia ha una marcia in più? Dov'è che io mi sono stupito seguendo questa due giorni? Mi sono stupito perché dai da questi soffioni poi siamo passati a visitare ad esempio un'azienda agricola Siamo passati a visitare un bel rificio Un'azienda principale Il malto Già mazzinato Nice! Siamo passati a visitare queste torri di raffreddamento perché? Perché la cosa più bella che mi è successa e ve l'ho detto anche un po' appunto già su Instagram È che l'energia geotermica significa coltivare il territorio Non estrarre Non stiamo estraendo, prelevando da un serbatoio gigante qualcosa che poi va a terminare Quindi si cerca un altro serbatoio Ma si va a utilizzare un'energia che è all'interno della terra Che è quasi inesauribile Per produrre energia elettrica e con tutto lo scarto Quindi per esempio i vapore di scarto sono utilizzati per il teleriscaldamento Che va a riscaldare tipo 10.000 utenze nella zona vicino alle centrali Oppure come abbiamo visto Simo mette un po' di immagini anche divertenti all'interno di questo caseificio Il vapore viene utilizzato per trasformare il latte di queste pecore in formaggio Com'è che ha fatto la scarlata? Fammi vedere Ladies and gentlemen, from Biala, Lisa Scarlata Lei ci farà vedere come si munge una Ti stai spogliando per i nostri viewer? Mi stai spogliando malissimo Devo farmi dare dalla Eli E il video Ma cioè praticamente vlogghiamo Like Ora non vi spiego tutti i processi produttivi che succedono all'interno di questa azienda Perché sono un po' complessi, un po' lunghi Magari poi il vlog durerebbe una vita Però di base è fico come non solo c'è il teleriscaldamento Quindi un'utenza privata beneficia di questa struttura geotermica Ma anche un'azienda agricola, un'azienda produttiva ne beneficia ancora di più Perché in questo caso viene utilizzato appunto il calore del vapore per trasformare il latte in formaggio I soffioni li abbiamo visti Poi siamo andati a vedere le torri di raffreddamento Ma cosa sono queste torri? Perché alle volte si vedono questi fumi giganti che escono da queste torri enormi E si pensa subito a una cosa negativa Il nostro cervello alle volte vede una cosa e giudica Ma è sbagliato No! God! Please no! 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 Non sono fumi ragazzi Quello è vapore acqueo che viene rimandato nell'atmosfera dopo che è stato pulito Diciamo io cerco di parlare un po' in modo primo semplice Secondo quello che ho capito io no? Perché ci sono tante sfaccettature Però di base cosa succede? Quando il vapore viene estratto e entra in questa turbina Produce energia elettrica Ma il vapore in eccesso non viene buttato Ma viene portato in dei condensatori che producono acqua in sostanza E quest'acqua viene abbassata di temperatura con queste torri di raffreddamento E poi viene rimandato dopo che è stato pulito Rimandato poi nel sottosuolo Cosa significa? Significa appunto questo processo di coltivazione Significa non buttare via niente Significa dare un po' alla terra di quello che ci è stato dato da lei Quindi il processo produttivo continua Quindi non solo la cosa fichissima è che l'energia geotermica parte dalla terra ed è una fonte di energia praticamente inesauribile È come avere una batteria infinita, no? Voi che andate in bici è come avere una batteria da 100 megamilioni di watt nella nostra e-bike Ma questo non significa sfruttarla Significa invece comunque coltivarla Quindi dando indietro parte del processo produttivo di scarto Il ciclo continua e noi continuiamo a beneficiare di questa energia Ci sono mille cose che vorrei dirvi Però so che vloggare non è facile Portarvi dei contenuti così delicati non è facile Spero che però il messaggio sia arrivato Spero che il giro del fuoco che abbiamo fatto nel Green Power Vi abbia portato qualcosa di culturalmente importante e interessante Abbiamo visto l'anno scorso a Lombardia il giro dell'acqua Dove quindi abbiamo conosciuto come l'acqua viene utilizzata per produrre energia elettrica Ora abbiamo capito come la terra ci aiuta in questo processo produttivo Ad avere energia elettrica Ad aiutare le persone ad avere bollette più basse Ad aiutare le aziende a produrre in maniera più green A non produrre CO2 Insomma sicuramente il processo è molto interessante È molto fico E sono proud Anche se Toto non vorrebbe che dicessi proud Sono orgoglioso di aver fatto parte di questa spedizione Di questa gita Di questa due giorni così interessante Perché mi ha veramente toccato È molto bello il modo in cui viene usato l'ambiente in maniera positiva Quindi grazie mille Enel Green Power Grazie mille Lisa e Omar per avermi accompagnato In questa due giorni Grazie a tutto il team e la squadra Enel Green Power Siamo mettici due foto che sono buffe dei ragazzi Dai mettiamoci il casco e andiamo in bicicletta E niente ci vediamo al prossimo vlog Mi raccomando iscrivetevi e attivate la campanella Tchau Ciao Ciao Grazie.